domani, domenica 8 novembre ore 14.55 su questo canale da REN4 conoscitori italiani sin nome lunghissimo ci sarà la live di Torino crotone partita clou della serie A con Pirate Traveling Pirate Traveling Pirate Traveling insomma con lui mi raccomando corretti numerosi non più di 6 che se no poi andiamo fuori legge ma direi che non ci sarà problema non ci sarà problema